I nostri mini turisti della Provedeutica Tisio si preparano per fare un viaggio a bordo del Fanfulla Pipe. L'equipaggio, costituito dalle splendide hostess del gruppo fitness, vi alletterà il viaggio a ritmo di zumba. Chiara, Gloria, Gaia e Chiara, tecnici di questi gruppi, siete pronti? Decolliamo! Grazie! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti